Weekend di Dino Buzzati C'è un posto, della città di Milano, dove si sente l'estate dei ricchi più che in qualsiasi altra parte di Milano. Più che nei saloni Luigi XVI, chiusi, deserti e silenziosi, dei palazzi di Via Gesù, con i tappeti au buisson, tele di Zeiss, canaletto, zuccarelli, più che nei palchi della scala, tutti imbottiti di buio, più che nei giardini nobiliari in coma estivo, più che nei night sotterranei chiusi per ferie, e vi ristagna quel tanfo speciale dei carnevali finiti per sempre, più che sulle terrazze del grattacielo, dove le zanzare morte galleggiano pigramente, sulla tepida piscina, che non ha un fremito, e dove la sera, col toscano in bocca, sale il custode ad annaffiare le piante, e mentre lo spruzzo ticchetta sulle foglie, egli siede sulla poltroncina smaltata di bianco della padrona, pensando. C'è veramente una località che dà fortissimo il senso di coloro che sono lontani a divertirsi. Dei fortunati nelle ville a picco sul mare con scogliera e imbarcadero privati, o sulle barche di 80 tonnellate tra isola e isola, o nel grande albergo riservatissimo a speciale clientela, o nel casino di caccia sperduto fra gli abeti dell'Astiria, o nel fiordo Sogne, o nel parco Zion, o in bilico sul surf polinesiano, oggi venerdì, perché il weekend dei ricchi al venerdì è già incominciato, se non altro a titolo di curiosità, verso le due e mezzo tre, e non ho nessuna intenzione di scherzare, Quando il sole batte più fisso, entrate nel cimitero monumentale. Qui stanno, dormendo, si può dire gomito a gomito, i grandi della Milano industriale, i potenti, i temuti, i leggendari, gli infaticabili, che tutte le mattine dell'anno, alle sette precise, davano l'esempio. E adesso dormono, finalmente. Nel giro di poche centinaia di metri quadrati, li troverete tutti i bisnonni, i nonni, i padri del boom. Mai sono stati così soli. In questo bellissimo pomeriggio, che chiama ai mari, ai boschi, alle praterie, voi potentati del ferro, dell'acciaio, dei filati, della carta, della ceramica, degli elettrodomestici, cosa fate chiusi là dentro? Che cosa fate così, soli, soletti, senza segretarie, senza consiglio d'amministrazione, senza maestranze permanenti o avventizie, senza moglie, né figli, né parenti? Illustri signori, vi è lieve, se lecita la domanda, il peso di tanto marmo? Cappelle, cripte, mastabe, piramidi, guglie, colonnati, angeli, cristi, santi vergini, eroi titani, perfino scheletri, fantasmi, buoi, cavalli, donne nude, in una immobile selva babilonese, di cuspidi, cupole, torrette, esagitati simulacri. Qui è cessato, ahimè, il regime di concorrenza tra i giganti degli acciai e dei cotoni. Concentrati in caotica folla di monumenti, uno più orgoglioso e dispendioso dell'altro. Ora essi celebrano, apparentemente d'accordo, una sorta di amaro trionfo. Ma a che serve? Se ne è appena andata all'ultima comitiva di stranieri aggiogati al giro turistico in torpedone, con facce atone e debeti per il caldo, essi hanno udito, senza ascoltare, le spiegazioni della guida. E poi hanno ripreso il cammino. I viali sono tornati deserti. Non si ode un passo sulla ghiaia. Non c'è un fiato di vento. Questa è una cappella da ventimila operai. Per questa cripta nove ciminiere dalla parte di Porta Vigentina, più i magazzini, gli stabilimenti, i satelliti, le rappresentanze, le succursali. Per questo tempietto 3.000 impiegati, 16.000 tra commessi e commesse. Ma chi oggi si ricorda di voi? Ieri il maggiordomo vestito di scuro è venuto a sistemare le tuberose e i gladioli, per ordine della signora contessa, nipote del defunto titolare, la quale aveva telefonato apposta da Maratea? Delicato pensiero. Poi se n'è andato anche lui. Fa caldo, fa afa, fa malinconia, per i fondatori dei piccoli imperi, macchine tessili, alti forni farmaceutici, segherie, cavi elettrici, liquori, articoli di abbigliamento, oli, minerali, tubi, aranciate, grandi magazzini. Dovunque si giri lo sguardo, qui, raggelati nella maestà della morte, i nomi che da mattina a sera ci inseguono sui giornali, sui muri, sul video, sulle scatole di dolci, sui tubetti di dentifricio. Ha fatto stamane il bagno il pronipote Foffino nelle acque di Arbatax, nonostante la febbreta di ieri provocata dalla dentizione? Si diverte la piccola Adoré nel castello dei cugini scozzesi? È vero che l'intelligentissimo Gianfausto, nuovo orgoglio della dinastia, si è baccalaureato a Rogers, New Jersey? Nella tripla cassa di zinco svedese intatta dopo tanti anni, il commendatore, l'ingegnere, il sovrano, da cui è venuto tutto questo ben di Dio, non ne sa nulla, non lo può sapere. Nessuno viene, nessuno telefona, nessuno gira la chiave nella seratura del cancello in ferro battuto firmata da Mazzucotelli. Giungono per caso, al sepolcreto del nonno famoso, gli strilli dei bambini felici, che hanno lo stesso suo sangue? O l'elastico botto del driver sulla pallina sparata dal nipote Pier Federico a St. Andrew? O il duplice rugito dei motori del minorca, lanciato sulle onde di paleocastrizza con a bordo un cinquantenne corpulento, ed estremamente sicuro di sé che porta lo stesso suo nome? Sarebbe una consolazione. No, quei suoni di gioia e di vita non arrivano fino alla faraonica tomba. Nel vuoto, nell'abbandono, nell'afa morta della fine settimana di agosto, il mausoleo è misero, solo ed erelitto, più ancora che la croce senza nome del vagabondo trovato un mattino nel vecchio fienile alle porte di un paesetto di montagna. Quando, alle otto in punto del mattino, scedevate dall'auto all'ingresso dello stabilimento, un'onda di panico rispettoso si propagava di reparto in reparto. Funzionari, impiegati, fattorini, rettificavano la posizione. Bei tempi! Ora si può pretendere che donna Marzia, con quel suo terribile esaurimento nervoso, lasci lo chalet di Sassfi per venire a salutare il nonno? Tanto lo ritroverà a ritorno nelle stesse identiche condizioni. Nel colombario del famedio, fra i tanti, c'è una lapide che sembra messa ieri. Il 2 agosto 1915, dice, colpito in fronte, cadde da prode. Entusiasticamente combattendo, sul monte Pipar, quota 2003, sottotenente dell'ottavo alpini, che già decorato al valore, nella campagna di Libia. Sul monte Pipar, quota 2003, una comitiva di villeggianti è andata oggi a fare un picnic. Nel pullover che uno indossava, c'era un cartellino, con lo stesso nome che sta inciso sull'architrave della gigantesca edicola torreggiante, laggiù a sinistra. Le scarpette della fidanzata recavano la stessa marca, scritta a caratteri di bronzo, in vetta a quell'arcigno monolito che si intravede in fondo, riparto numero 9. Anche la radiolina, anche l'acqua minerale, l'aperitivo, i tovaglioli, i formaggini, le posate, pneumatici, i tranquillanti, la valigetta, il libro. A ciascun oggetto della scampagnata corrisponde qui un loculo, un tumulo, una cripta, un angelo di lusso. Infatti, sotto le pietre e le sculture, i capostipidi patriarchi Boss continuano ancora a firmare. Coi loro potentissimi nomi firmano l'acqua, il vermut, il formaggio, le stoffe e le maglie, le nostre minute cose quotidiane. Firmano, ma per procura solamente. Ormai sono fuori del giro. Venduta la villa che il commendatore aveva costruita in Brianza con tanta soddisfazione, trasferita in un nuovo palazzo la direzione, ridisegnata perfino la gloriosa marca di fabbrica perché troppo floreale. Chi comanda non è più lui. Ora non gli dovrebbe forse bastare questa bella casettina ideata dall'architetto A, scolpita dallo scultore B, decorata dal pittore C. Tanti milioni per il terreno, tanti per tot tonnellate di marmo, tanti per tot quintali di bronzo, ed erano i magnifici milioni tondi e massicci degli anni trenta? Non gli dovrebbe bastare per il weekend? Non lo soddisfa la compagnia di tante graziose bianche statuine, madonne, vergini, silfi di naia di e driadi, rampicanti quella nella cripta? Dormono? Lasciateli dormire. Certo, essi immaginano un'Italia prospera e felice, con un inesauribile incentivo degli indici di produzione e dei dividendi, fabbriche sempre più grandi, operai sempre più contenti, bilanci sempre più positivi, fisco sempre più distratto. Nessuno infatti porta qui le notizie, nessuno dice congiuntura, nessuno telefona, nessuno apre il cancelletto e si affaccia per avvertire. Perché disilluderli? Ninna nanna, nonnino, noi corriamo, noi navighiamo, noi vogliamo, prendiamo il sole, balliamo la bamba e lo iabron, dormi in pace nonno importantissimo, ciao ciao con la manina. Ma chi c'è adesso? Chi arriva? Nessuno, è soltanto uno dei custodi che fa il suo prescritto giro di spezione. E questo colpo? Cosa è stato? È scattato un catenaccio? Hanno aperto un cancello? No, è la tunica di un San Francesco fatta di lamiera di bronzo, che a motivo del caldo si tende, scricchiola e fa tac. E di chi è questa voce? Chi borbotta preghiere? C'è dunque qualche creatura memore e pia, nonostante la desolazione di agosto? Nessuno, è la fontanella.